Colpaccio da prima pagina per l'Aquila di Giovanni Paiari che spugna a sorpresa il Dallara di Bologna per due reti a uno e vola al terzo turno di Team Cup in programma domenica prossima contro l'Empoli. Una vittoria memorabile, la più prestigiosa della sua storia dopo quella contro l'Andrea Doria del 1934 che valse la promozione in Serie B. Aquilani subito padroni del campo in vantaggio dopo soli 14 minuti di gioco. Funziona alla grande l'asse ex salernitana per Petuni Mancini con il primo che verticalizza per il numero 10 rosso-blu. Il fantasista con un tocco magico pennella per Perna che approfitta del liscio di Garix e esplode il sinistro che non dà scampo a Coppola. Al Dallara 1-0 a sorpresa dell'Aquila con il secondo gol in due partite per Raffaele Perna. Nel replay ammiriamo la prudezza dell'ex Como, sinistro al volo a fil di palo. Nella ripresa arriva però la risposta del Bologna. Alla minuto 23 su azione d'angolo è il neo entrato Giannone in girata a infilare Zandrini per il gol dell'1-1. Si va ai supplementari e quando sembra ormai tutto in salita, proprio come contro l'alto Vicentino, arriva il gol del sorpasso e dell'ingresso nella storia. De Francesco lavora palla sulla destra appoggiando a Corapi. Il Folletto Aquilano pennella in area di rigore. La Pantera Claudio De Sosa graffia con una girata d'applausi in acrobazia. È la rete del definitivo 2-1. Alla fischio finale applausi meritati anche dalla Curva Bulgarelli per l'impresa dei Rosso Blu Aquilani che hanno fatto la storia in una tipida serata di mezza estate. Pagliari, stavolta non c'è due senza tre, dopo le due sconfitte da giocatore arriva la vittoria prestigiosissima da allenatore. Sì, è vero. Grande gioia, grande soddisfazione, veramente. Ma soprattutto per la prestazione, la voglia di chi ha giocato, di chi è entrato, di chi è stato in panchina. È una vittoria del gruppo e mi auguro che sia di sprone per la prossima che è in buio, ma soprattutto per il campionato, quello a cui io punto molto. Un nuovo tassello di quasi due anni straordinari da quando è arrivato alla guida dell'Aquila. Adesso per un campionato in cui l'Aquila si candida da protagonista. Sì, sì, ma io penso che la vittoria più bella è quella che deve venire. Io mi auguro che questo sia da sprone per il campionato. Se noi pensiamo di essere bravi buttiamo all'aria tutto quello che abbiamo fatto in questi 13 mesi.